La quarta, verde o rossa? Alterno ancora una volta, sono partito col verde, poi rosso, Euro-Dollaro verde, la quarta è di nuovo rossa. Mi sposto sugli indici e sono sul DAX, quindi sono in Europa con uno short potenziale sull'indice tedesco. Direi che ti piace il rischio questa settimana perché vai di Euro-Dollaro in concomitanza con la riunione della Federal Reserve, ti esponi al DAX in una settimana particolare perché davvero è scattato il countdown rispetto a quelle elezioni che andranno a individuare il futuro tedesco sul fronte politico dopo un lunghissimo periodo caratterizzato dalla guida di Angela Merkel. Quali sono le motivazioni e anche qui i livelli? Assolutamente sì Riccardo, è molto sotto pressione il DAX in virtù di questo evento politico di cui tu hai parlato ed è debole da quando è diventato DAX 40. Dall'inizio di questa settimana per esempio mi vengono in mente i posizionamenti in opzioni che ci sono appunto sul DAX come sottostante, sono molto molto deboli, non c'è più quella sicurezza al rialzo che aveva insomma caratterizzato un po' tutti gli indici in particolare il DAX come migliore fra gli europei prima della scadenza tecnica di venerdì scorso. Da lunedì il DAX è all'improvviso diventato il più debole dei deboli, cioè il più debole degli europei. Quindi se mi devo giocare una carta rossa su un indice me la gioco sul DAX, livelli di ingresso 15.500 con 100 punti di stop e 100 punti di target. Il 15.500 è un ritorno ai massimi della giornata di venerdì, perdon, della giornata di ieri. Livello quindi molto molto importante perché decreterebbe appunto l'annullamento di quelle brutte perdite messe a segno nella giornata di ieri. Io penso che una volta arrivato a quel target di rimbalzo, il DAX, una piccola discesa di 100 punti, anche qua è una trade molto stretta che può aprirsi e chiudersi nell'intraday, il DAX potrebbe concedermelo. Quindi 100 punti di ribasso magari prima poi di tornare di nuovo a salire verso i massimi storici. Lo vedremo.